Tre squadre pugliesi e due lucane, un turno di riposo a testa visto che il Gironi C è a 19 squadre, 38 giornate con quattro turni infrasettimanali e partite in programma anche nel periodo natalizio. La Serie C finalmente vede la luce anche se resta il pastrocchio di un campionato di Serie B a 19 squadre e i ricorsi contro i mancati di pescaggi che rischiano di essere all'ordine del giorno. La prima giornata del campionato di Serie C si giocherà mercoledì prossimo visti i tempi fin troppo risicati per organizzare le trasferte ma sarà subito match di cartello tra Monopoli e Catania così come di sicuro interesse sarà l'esordio casalingo del Biceglie contro la Bibonese. In questo caso alla curiosità di vedere all'opera una squadra allestita nelle ultime settimane si aggiunge quella di vedere la reazione di una tifoseria annunciata sull'Aventino dopo un'estate di tira e molla sulla possibile cessione societaria. La terza squadra pugliese ai nastri di partenza da Virtus Francavilla dovrà restare ai box per osservare il turno di riposo che toccherà a tutti. Esordio in casa per il Matera che ospita il Dieti prima tra in trasferta per il neopromosso Potenza che assaporerà vecchi sapori di calcio professionistico a Catanzaro. Tra undicesima e tredicesima giornata occhio al derby Biceglie Monopoli, a quello Lucano tra Potenza e Matera e alla sfida tra i Nerazzurri e la formazione di Nicola Ragno che ritrova da avversario la squadra guidata alla promozione in Serie C. Il girone d'andata si concluderà tra 23 e 26 dicembre mentre quello di ritorno comincerà il 30 dello stesso mese poi spazio ad un lungo riposo sino al 20 gennaio del prossimo anno. La chiusura della stagione regolare è fissata per il 5 maggio. Dalla settimana successiva cominceranno i playoff e i playout. Sembra tutto tornato nella normalità ma i pasticci rimangono.